All'attrice quartè e quintè di questo sabato sono in diciassette, quindi otto in primo, otto in secondo, uno in terza fila Samuel Del Roque, Rolec, Savacco, Pasciucco, Sharon Trebb, Rosie B. Power, Soprano, Sayonara, Razopol, Savino, Safati, Sandigiri, Farco, Roulette, Russo, Sonic One, Redaloda, Sogno, Reynold e Rushki in terza fila, solitario, sabo gioioso, corsa molto aperta, Sogno Del Nord, Sonic One, in prima fila anche Soprano, è molto seguito, si va e si va a vedere buono all'allineamento, via la macchina in velocità c'è l'otta con la Rosie B. Power che sfila sull'errore di Savino Griff e va al comando con a largo Razopol cavalli che affrontano la piegata, si completa il lancio, tredici e sette, viene via la grande Reino Allè con Forino sei a tabellone, anche l'otto a tabellone e l'arrivo di Forino si presenta a chiedere strada si va dopo quattrocento metri con un po' di spesa, Reynold al comando ventinove e tre, Reynold, quindi Rosie, poi il sette di Razopol, Nasino al vento, il Soprano si va dopo seicento, quarantatré e sei, da uno dodici e sette e Reynold affronta da leader la piegata, si ingamba Sogno Del Nord ma trova un po' di traffico si va al completamento del mezzo miglio, intanto Rosie B. Power sposta un minuto e qualche spicciolo e Rosie anticipa Sogno, sta passando Rosie B. Power ma subito Sogno è lì, viene via anche il dodici di Sonic One e Sonic va via a largo di tutti il disassette a tabellone, quattordici e sette il chilometro, cinquecento alla meta Rosie, Sogno, Sonic One in diagonale curva finale alla finestra il Soprano che vorrebbe dare un acuto quattordici e sei, uno, ventinove e tre, sei quarti di miglio Rosie regge ancora, Sogno a largo, Sonic che tentenna, Soprano a largo di dentro Reynold a lei, tenta lo stacco Rosie B. Power ma si ingamba a largo alla grande sta passando Sonic, viene via il Soprano, Sonic Soprano in lotta, va di dentro Soprano Sonic in vantaggio, Sonic One 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 terzo probabilmente Redalod, andiamola a rivedere, due minuti e un po' di spiccioli il triplo nel pomeriggio dell'Omino di Agnano e ora diventa anche l'Omino d'Italia questo Vincenzo Luongo non c'è nulla da fare, è nato per guidare 12,5 al primo e il secondo, 13 al terzo, poi c'è il 9 e di dentro l'11, ma questi dovrebbero essere gli numeri, attenzione, sono molto vicini, quindi non ci sono problemi 12,5 l'ha accoppiata, sicuro, 3,64 la quota, vedete, netto, per le altre piazze conservate gelosamente i biglietti, l'ordine d'arrivo lo fa la giuria, ma non vedete, di dentro, vedete, sì, quindi la foto assolutamente lo fa la giuria l'ordine d'arrivo, quindi il giudice d'arrivo per quanto concerne le piazze, le accoppiate sono quelle, anzi l'accoppiate, è tutto per il momento, linea allo studio